Quel mazzolino Chi è che era la piccola vedetta lombarda? Un gran patacca Dieci lod! Radiato per effetto immediato da tutte le scuole del regno A meno che un tanarigino non si presenti volontario in guerra Alla tua età farti mandare al fronte Mamma basta Anche due maroni però Mi risponde così alla mamma Vuoi un'altra piadina? No Soldato semplice Montanari ha detto leografista Quella è la tua attrezzatura levati dai coglioni Agli ordini caporà Mi chiamo Anillo Pasquale assistente leografista Quattro piedi sfigati, un maestro elementare uno scugnezzo di Napoli Cosa ci fa un meridionale qui in mezzo alle montagne? A Caprisca li fa ragioni Alpino Marino Gli austriaci vogliono sfondare il fronte Per fermarli ci siamo solo noi E dobbiamo fare con quel che abbiamo Mamma, qua mi trattano tutti bene Particolarmente il caporale montanare che mi tratta come un figlio Venite giù a governarci Adesso sono tutti i cazzi vostri Dall'altra parte Sei sicuro? Mi era sembrato che... L'ultimo pensiero del nemico Prima di morire sarà Quanto sono valorosi Questi italiani Mammoni, vabbè E putanieri Quanto sono eroici Meglio un vivo smerdato Che un morto improvumato Ma soprattutto quanto sono eleganti Questi italiani Questo però non è fare il bagno Questi sono i fanchi Dannali! Com'è dannate o? Com'è?